Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata al sit-in di protesta dei lavoratori della Tecra, società campana che a Gela gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ritardi nei pagamenti e il mancato assorbimento di altri lavoratori rimasti fuori dall'organigramma sono i due elementi che hanno portato una settantina di lavoratori ad incrociare le braccia. Vediamo. Ritardi nei pagamenti ed il mancato assorbimento di altri lavoratori rimasti fuori dall'organigramma dell'azienda Tecra che a Gela gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono i due elementi che hanno portato una settantina di lavoratori ad incrociare le braccia. Sit-in questa mattina dinanzi alla sede aziendale sulla statale per Catania. Siamo arretrati con il mese di marzo, venendo a conoscenza che il Comune ha pagato già la fattura di marzo. E dunque adesso tocca alla ditta pagarvi? Sì, certo. Questa è una mancanza della ditta perché non abbiamo avuto ancora il pagamento. Ma per quello motivo non vi paga? Questo non lo sappiamo. Non abbiamo avuto nessuna notizia in merito a questa situazione. Loro dicono per i debiti fuori bilancio che noi non c'entriamo niente completamente con i debiti fuori bilancio. Noi siamo per i lavori ordinari e non quelli straordinari. Il servizio di raccolta dei rifiuti nonostante tutto la scorsa notte è stato garantito. L'abbiamo garantito infatti a Insapena il rappresentante sindacale che ha garantito la Tegra per i servizi di emergenza e ci hanno detto che è tutto a posto. Non c'erano bisogno di no. Siamo qua. Loro stanno coprendo i servizi facendo intervenire persone fuori dal cantiere di Gela. Quindi sono venute persone di quello che abbiamo visto, persone che sono al di fuori proprio totalmente dalla ditta. E non si può andare avanti così. Deve avere due mensilità quindi è durato andare avanti. Ma voi avete avuto la possibilità di parlare con i responsabili della Tegra, con il gruppo palestrieri? Eh sì, e ci dicono sempre che quando ci danno i soldi di comune ci puoi pagare. Ci sono arrivate altre persone di fuori quindi stanno facendo il servizio che dobbiamo fare noi. Cioè dalla sede ci siete o non ci siete? È la stessa cosa. Quindi vengono sempre loro. Intanto Ignazio Giudice della CGL insiste nel denunciare che alcune vicende si possono evitare. Sarebbe sufficiente che ognuno facesse con solerzia ciò che è giusto fare evitando di colpire l'anello debole e privo di responsabilità, e cioè i lavoratori. I lavoratori iscritti alla CGL stanno garantendo il servizio nella convinzione che i problemi si possono risolvere attraverso una adeguata interlocuzione tra amministrazione comunale, società che esegue lo servizio e sindacato dei lavoratori. Il sindacato non ha competenza nel discutere i debiti fuori bilancio e competenza del Consiglio comunale, e solo loro, i consiglieri, in autonomia possono e devono decidere se approvarli o meno. La CGL da oggi ha inviato una formale di fida legale alla Tegra ed ha informato la Prefettura della situazione che si vive a Gela, che sta all'istituzione di un osservatore permanente in grado di vigilare sui diritti dei lavoratori per tutti gli appalti erogati dal comune di Gela. Cominceranno lunedì prossimo i lavori per la realizzazione dei marciapiedi nel quartiere Settefarine a Gela. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata un'impresa dell'Agrigentino. Sentiamo l'assessore comunale ai lavori pubblici. Un intervento importante per questo quartiere, un quartiere di periferia che tante volte è stato attenzionato, ma nonostante tutto ancora in certe parti del quartiere mancano i servizi essenziali, in questo caso i marciapiedi, in altre parti del quartiere mancano anche le fogne, quindi insomma la situazione la conosciamo, per cui cerchiamo di attenzionare tutti nella stessa maniera. Abbiamo fatto degli incontri, ci sono dei lavori che abbiamo fatto sul cavalcavia per mettere in sicurezza il passaggio pedonale, e tante sono le richieste di tutti i quartieri, Settefarine come Cantina Sociale, come Margi, come Machitella stesso, quindi tutti hanno esigenze che stiamo cercando di attenzionare. Nei prossimi mesi partiranno delle gare di manutenzione stradale molto importanti. Le lungaggini burocratiche sono evidenti. La gara è stata fatta a settembre del 2015, siamo sotto l'amministrazione messinese chiaramente, e siamo a maggio del 2016, quindi dopo otto mesi riusciamo finalmente a dare risposta al quartiere. La lentezza a volte, io penso che sia un discorso proprio insito nel comune, non dico il comune di Gela, ma in realtà in tutta l'amministrazione italiana, a volte manca un documento alla ditta, o manca l'ufficio contratti che magari perde un mese di tempo, piuttosto che due mesi, e quindi è un discorso proprio di burocrazia, proprio insita nel sistema italiano. Adesso ci occupiamo dell'Odissea vissuta da un gruppo di scout gelesi in occasione della festa di San Giorgio. Il racconto lo affidiamo al presidente della sezione Fabio Rampulla, Salvatore Vitale. Salvatore Vitale, ma rischiava realmente di saltare il campo scout San Giorgio che ogni anno si svolge Gela? Avendo chiesto l'autorizzazione all'azienda forestale ufficio di Caltanissetta, l'abbiamo chiesto il 26, da loro ho ricevuto il 29 febbraio, ci telefonano, ma solo dopo varie telefonate che avevamo fatto dove non si trovava mai nessuno, abbiamo mandato un nostro emissario da Caltanissetta, e ci telefonano il 21, cioè il giorno prima dell'arrivo dei nostri lì, venerdì 22, per dirci alle 12.15 che l'autorizzazione era pronta e che dovevamo andarla a ritirare a Caltanissetta. A distanza quasi di due mesi dalla vostra richiesta. Quando noi abbiamo detto, ma guardi che noi l'abbiamo mandata per posta con ricevuta in ritorno, anche voi potevate, e poi abbiamo fornito una nostra PEC di sezione, che è come se fosse una posta certificata, ci hanno risposto no personalmente, e se non vi sbrigate noi chiudiamo perché poi non lavoriamo più venerdì, sabato e domenica e lunedì. Il campo poi si è svolto regolarmente alla Rafforosso, ma avete trovato problemi non indifferenti? Abbiamo trovato una distruzione immensa perché la zona sembra aperta a tutti, senza certe volte custodia, e quindi c'era da rabbrivedire. Dopodiché ci siamo trovati senza acqua. Ufficiosamente qualche custode ci ha detto che avevano rubato i cavi di rame delle pompe e che non potevano riempire i serbatoi. Però noi abbiamo detto che un ufficio pubblico che si rispetti doveva far arrivare delle autobotti almeno, perché lì, oltre agli scout, il 24 e il 25, sono arrivati da tutte le zone circostante, da Gela, da San Michele di Canzaria, da Mazzarino, per passare due giorni di vacanza in mezzo ai boschi. Abbiamo dovuto comprare noi 10.000 litri di acqua per riempire le vasche e far arrivare l'acqua alle fondanelle per noi e per gli altri, e soprattutto per i gabinetti, perché rischiavamo veramente un default. Abbiamo dovuto noi rastrellare tutte le ramaglie nei boschi, sotto gli alberi, e portarli vicino ai focolari, sia per noi che per la gente che è venuta. Quando lei si riferisce agli enti pubblici, il riferimento è agli enti pubblici di Caltanissetta? L'ufficio è quello di Caltanissetta, Regione Siciliana, ufficio domeniale di Caltanissetta. E non capiamo il perché. E non è la prima volta. Precedentemente abbiamo fatto anche altre richieste di autorizzazione che non ci sono completamente pervenute. Cioè noi siamo andati alla ricerca di un posto alternativo alla vigilia sempre della partenza dei ragazzi. E non si può. E' un'associazione con centinaia di ragazzi la nostra. E i ragazzi non si toccano, i ragazzi hanno bisogno di questi palmoni verdi. Scoppia una condotta e Niscemi ripiomba nell'emergenza idrica. A comunicarlo è Caltacqua, la società che gestisce in tutta la provincia nissena il servizio di gestione e distribuzione idrica. L'interruzione dell'acqua che si protrarrà da 24 a 36 ore è legata allo scoppio improvviso della condotta delle sorgenti Polo. In occasione dell'adesione alla manifestazione nazionale Invasioni Digitali l'Archeoclub di Gela organizza per domenica, 8 maggio, dalle 16 alle 20 una iniziativa volta a scoprire uno dei luoghi più amati di Gela, la Torre di Manfria. Guidati dai soci dell'Archeoclub, i partecipanti potranno gustare la storia e le leggende che riguardano la spettacolare torre di avvistamento e segnalazione i cui lavori iniziarono nel 1549 e furono completati nel 1615 che è stata una delle torri costiere più importanti della Sicilia. Per informazioni bisognerà contattare i numeri 349 2698140 oppure 349 2914597. Torna in piazza la zalea della ricerca, appuntamento previsto per domenica, 8 maggio, in piazza Umberto I a Gela in occasione della festa della mamma. L'iniziativa è dell'AIRC, l'associazione italiana ricerca sul cancro, la delegata locale. Grazie a Condello Città. Noi abbiamo sempre con successo avuto le manifestazioni e gli eventi, si è concluso da poco quella dell'uovo della ricerca e abbiamo fatto veramente una grande raccolta con circa più di 14 mila euro. Questo significa che la popolazione inglese è sempre sensibile. e lo sarà, penso, anche domenica. Saremmo in piazza dalle ore 7.30 e a conclusione dell'evento intorno alle 13.30. Si potrà ritirare la zalea con un contributo di euro 15 e si ha diritto al rinnovo della tessera annuale e alla pubblicazione del fondamentale che è una pubblicazione dell'AIRC trimestrale. Per chi non volesse ritirare la zalea potrà dare un contributo di euro 10 e si ha diritto al tesseramento e naturalmente anche alla pubblicazione. Contro il cancro io ci sono è lo slogan che caratterizzerà la giornata. Noi siamo da 25 anni presenti a Gela e progressi ne abbiamo visti e concretamente adesso c'è veramente una grande soluzione per quanto riguarda i tumori per esempio alla mammella sono quasi scomparsi se si fa una dovuta prevenzione e anche per altri tipi di tumori. Quindi aiutiamo ancora la ricerca e il futuro è nelle nostre mani. In questi anni i ricercatori finanziati dall'AIRC hanno ottenuto successi eccezionali dimostrati non solo dall'aumento esponenziale della sopravvivenza ma anche dal miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici. C'è anche un messaggio da dare. Questa raccolta che avviene in tutta Italia, circa 3.700 piazze italiane i proventi e i fonti raccolti in questa occasione saranno dedicati a per quanto riguarda i progetti di ricerca per i tumori femminili. Quindi significa che è anche un contributo a quello che è la figura femminile, alla mamma, alla moglie. Siterrà giovedì 12 maggio prossimo alle 19 presse locali del Museo archeologico di Gela la presentazione del romanzo di Vera Ambra. Piume, baciatemi la guancia ardente, porteranno il saluto della città natale di Salvatore D'Amaggio le autorità cittadine, i presidenti delle associazioni Rotary Club, FIDAPA, Lions Club del Golfo, Kivanis, Proloco Gela, Archeo Club, Lega Navale. Piume, baciatemi la guancia ardente, un romanzo storico e biografico liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore D'Amaggio, tenente, bersagliere, mitragliere gelese, protagonista indiscusso della Grande Guerra. Il libro ha ottenuto il logo ufficiale per il centenario della Prima Guerra Mondiale concesso dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e anche il patrocinio morale dell'Associazione Nazionale del Fante. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlandovi dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, sentiamo. Proseguono i festeggiamenti per San Giuseppe promossi dal Comitato e dai padri agostiniani a Gela. Giovedì 5 maggio alle 9 celebrazione eucaristica, alle 18.15 Santo Rosario e l'Italie e alle 19 celebrazione eucaristica con riflessione omiletica. San Giuseppe è il santo patrono per eccellenza della famiglia. La festa conclusiva è prevista per domenica 8 maggio. La festa di San Giuseppe cade ogni anno la prima domenica dopo il primo maggio. E siccome quest'anno il primo maggio è stato di domenica, sarà domenica 8 maggio. Come si svilupperà domenica 8 maggio? Cosa avete preparato? Sì, dunque ci saranno le messe la mattina, come da programma, ma solo e unicamente la mattina. L'ultima a mezzogiorno, dopodiché ci sarà il Yoko de Viadruzzo in piazza, come sempre. E da partire dalle 16.00-16.30 la processione che si svolgerà per le vie della città, con rientro alle 22.00-22.30 circa, avrà seguito il spettacolo di Piro Tecnico, i vochi Piro Tecnici. Sono molti i fedeli che si affidano a San Giuseppe. I fedeli di San Giuseppe sono tantissimi, specialmente i giovani, che si impegnano nell'organizzazione, anche nella preghiera, nel triduo, eccetera. Ma ci sono tanti, tanti giovani che si prestano per la riuscita della festa. Cosa chiedono a San Giuseppe? Soprattutto lavoro? Chiedono a San Giuseppe la protezione delle famiglie, si chiede il lavoro, e si chiede anche, siccome la nostra statua ha Gesù Bambino per mano, chiedono anche protezione per i bambini. Tant'è vero che c'è la splendida tradizione di spogliare i bambini quasi neonati davanti alla statua di San Giuseppe, quando San Giuseppe, il simulacro, esce dalla chiesa. Sulla gazzetta ufficiale quarta serie speciale numero 33 del 26 aprile scorso è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di Finanza. Al concorso possono partecipare cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del quarantesimo anno di età, siano muniti di diploma e strumentazione per banda relativo all'ordinamento previgente o di diploma accademico di secondo livello corrispondente, conseguiti in un conservatorio di Stato o istituto musicale pareggiato e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea. La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area concorsi online entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella gazzetta ufficiale e scadrà il 6 giugno prossimo. Si terrà domenica 8 maggio prossimo la manifestazione Gela Antica organizzata dalla scuderia Valvole Pistoni di Gela presieduta da Davide Milauro. Si tratta di un raduno di appassionati di auto d'epoca provenienti da Ragusa, Piazza Armerina, Enne e Caltanissetta. L'appuntamento è fissato per le 10 su Corso Vittorio Emanuele dinanzi al primo museo archeologico. Dopo la colazione gli ospiti visiteranno lo stesso museo accompagnati dal direttore Ennio Turco e dal presidente dell'archeoclub di Gela, Nuccio Mulè. Subito dopo, intorno alle 12, si terrà la sfilata delle auto per le vie cittadine. Il Medio Oriente è terra di incontro di culture e identità ma anche di scontri e conflitti di interessi geopolitici e geostrategici che ne hanno segnato profondamente la storia al centro del libro L'intreccio del Medio Oriente. Israele, Libano, Palestina di Salvatore Falzone presentato sabato pomeriggio alla Casa delle Culture del Volontariato di Via Xiboli. Un incontro organizzato dal Movi assieme all'associazione Reciprocamente. Si tratta della seconda fatica letteraria per Falzone, esperto di storia del Medio Oriente che in qualità di educatore nell'ambito del progetto Rivita ha potuto conoscere meglio da vicino, costatando con mano la sofferenza dei popoli. Sono le tre tematiche, la questione ebraica, la questione araba-palestinese prima e poi palestinese e infine la fragilità istituzionale libanese. Sono tre tematiche che hanno i riflessi uno nei confronti dell'altra perché quello che succede in Libano o viceversa ha un riflesso su Israele oppure sui palestinesi e così come ho detto viceversa. Va anche detto che sono tre tematiche che rappresentano le prime due il nazionalismo di due popoli che aspirano ad avere uno Stato che hanno aspirato in passato specialmente gli ebrei per quanto riguarda invece i palestinesi ancora oggi hanno il diritto allo Stato però tuttavia non hanno ancora oggi raggiunto questo obiettivo. Per il Libano invece c'è una fragilità istituzionale che riguarda il suo sistema comunitario non l'equilibrio di potere come avviene in Occidente bensì l'appartenenza comunitaria. Sempre sabato alla Casa delle Culture del Volontariato si è conclusa la 5 giorni di sport, convegni, concorsi, mostre ed esposizione che l'MCL ha organizzato a Caltanissette e Santa Caterina sul tema con il territorio nel cuore. Abbiamo voluto per la seconda volta nella nostra storia come MCL seguire il tema con il territorio nel cuore per cercare di dare un contributo alla crescita tramite la promozione sociale del nostro territorio sia dal punto di vista della creatività sia dal punto di vista culturale. Abbiamo iniziato a Santa Caterina e terminiamo qui alla Casa delle Culture dove cerchiamo di estrinsecare al meglio le nostre attività promozionali volte alla crescita del territorio, ribadisco. La Casa delle Culture del Volontariato è una realtà ormai consolidata che negli ultimi mesi ha deciso di aprire le porte al mondo esterno per far conoscere da vicino il mondo dell'associazionismo e del terzo settore. È prevista per venerdì 6 maggio alle 9.30 la Mini Olimpia di Atletica Leggera l'iniziativa si terrà alle Mura Timoleontai di Gela ed è promossa dall'associazione Green Esport presieduta da Giuseppe Veletti si tratta della settima edizione. C'è l'informazione cinematografica e il bimbo di vetro il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sono 3 gli orari di rotazione della pellicola 17.30, 19.30 e 21.30 sabato 7 maggio sempre al Cineteatro Antidoto di Macchitella alle 21 sarà portata scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela lo spettacolo Noi Donne ma soprattutto Madri. La rappresentazione mette insieme diverse opere celebri del panorama letterario all'interno di una cornice attuale vicina ai fenomeni e alle dinamiche della società moderna. L'appuntamento chiude la rassegna Teatro 2015-2016 promossa dal Piccolo Teatro Città di Gela. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci Grazie a tutti.